Buongiorno a tutti, sono qua a Modena alla settimana della bioarchitettura, interessante le giornate, io sono Paolo Rava, architetto, sono anche del gruppo AE, che è il gruppo architettura di energia della facoltà di Ferrara e siamo qui per raccontare alcune cose ai progettisti legati naturalmente a cosa succede nell'edilizia, diciamo così, in questi ultimi anni. Interessante la sostenibilità, interessante trovare modalità costruttive socialmente utili, la ristrutturazione, il recupero, la rigenerazione sono il futuro, vediamo di utilizzare l'etica professionale e troviamo le modalità costruttive più interessanti per poter appunto far bene il nostro lavoro. L'architetto ha un'etica, quindi a me piace sviluppare questo tipo di potenzialità, ritorniamo di nuovo a progettare come si deve, con i materiali più giusti, con i materiali legati al nostro ambiente, attenzione alle LCA, vediamo quali sono le tecnologie più giuste e come dico sempre, attenzione alle modalità, caso per caso, ogni edificio è un'unità interessante da studiare per poter trovare le soluzioni più idonee per appunto soddisfare quello che è l'eliminazione del consumo energetico e quindi l'emissione della CO2. Gli edifici a basso consumo energetico sono la potenzialità per il futuro, l'edilizia dovrà appunto lavorare su questo settore forte, attenzione, non esageriamo naturalmente con i materiali che hanno una grossa emissione di energia per la produzione stessa, quindi torniamo a un'ecologia della progettazione, torniamo all'ambiente, alla bioclimatica e naturalmente il consumo zero sarà il nostro futuro, però attenzione a come lo mettiamo in campo. Vi saluto e grazie naturalmente per l'ascolto.